solo per dormire, la vita era giù e a fianco al mulino poi c'era una cucina col fogolare dove forse anche d'inverno si dormiva per stare in casa. Quando, allora, vi dicevo anche che i mulini erano alimentati ad acqua, qui c'è, da sopra al balcone lo vedete, qui c'è il canale dell'acqua che alimentava le pavie del mulino, perché capite qui il fiume, acqua c'era, quando Bernardetta con le amiche, con la sorella e l'amica sono andati alla grotta a raccogliere lì che non è che hanno attraversato quel fiume, era impossibile, freddo, giubbraio, loro hanno attraversato questo canale che era un affluente del fiume, cioè a monte si piavano e poi giù si riconosce, quindi loro hanno attraversato quel canale. Oggi noi vediamo il grande fiume, come dire, contenuto negli argini per recuperare la piazza, ma ai tempi di Bernardetta il fiume entrava nella grotta, perché era un selvaggio, perciò poteva portare la legna che cadeva dai boschi e perciò poteva portare le ossa che lì in quelle insenature si fermavano, ma loro, le bambine, hanno attraversato questo canale. Per cui adesso noi, ora adesso entriamo, qui avete l'idea di questa mola che se ne intende il papà fesse l'occhio scalpellando una ruota come questa, perché più si erano appuntite più la macina era per sé. Ora noi entriamo, dentro c'è la prima sala dove ci sono tutte le foto di famiglia, i venitori, tutto un po' diciamo l'albero genealogico della vita di Santa Bernadette. Poi si passa su questo passetto, si entra, c'è la camera da letto dei venitori, dove sicuramente in quel letto Bernadette è nata, che poi hanno ricostruito almeno in quella stanza, diciamo, anche se forse il letto hanno recuperato il mobili o del tempo, però è la stanza da letto, dove lei è nata, ovviamente lei e i fratellini. Poi si passano nelle altre stanze e si scende giù. Di qua c'è il mulino e qui c'è la, come dire, la cucina dove non rompe. Ripeto, il concetto di questa casa era la casa che lei definisce della serenità, dove poi, purtroppo poi qui incominciamo i guai, l'occhio, il lavoro, la bontà del papà, dal benessere, diciamo, dalla vita figliosa e serena, passarono lentamente a una povertà. Dovettono vendere questo, in cui hanno andato ad andare lì, affitto, sempre più a scalare, a scalare, a scalare, ad arrivare non a zero, ma sotto l'offerto. Ecco, se passate su quella scala e non c'è l'entrata, ecco, non questa, c'è una scala di e non c'è l'entrata.